C'è un quarto arresto nella vicenda della gang che lo scorso 27 agosto aveva tentato di rapinare due giovani in via Spinello nei giardini del Porcinaia e nel parco Pertini. Si tratta di un altro ragazzo di 36 anni. I carabinieri vennero allertati dopo la richiesta di aiuto delle vittime due ragazzi ventenni. Prima uno e poi l'altro un'ora di distanza nei due parchi cittadini vennero brutalmente picchiati da un gruppo di quattro giovani con pugno al volto allo scopo di farsi consegnare i soldi fratturando loro il naso. I militari acquisite le prime informazioni sugli aggressori e svolti i primi accertamenti sul posto erano riusciti ad arrivare sulle tracce di uno degli aggressori e dopo una breve fuga lo avevano arrestato in flagranza di reato. Si trattava di un 26enne di Bibiena pluripergiudicato. Nei giorni seguenti vennero poi individuati ed identificati altri due soggetti che facevano parte della gang e nelle ultime ore dopo altre mirate indagini effettuate anche con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza presenti sul luogo delle aggressioni sui percorsi utilizzati per allontanarsi dai luoghi anche l'ultimo aggressore rimasto precedentemente ignoto è stato arrestato. Si tratta di un altro pregiudicato di origini polacche residente anche lui in Casentino denunciato per lesioni personali e tentata rapina aggravata in concorso.